Grazie Presidente. Allora, la realizzazione di questo plesso scolastico di Castel di Leva riguarda chiaramente il Dipartimento Simu, lavori pubblici. Io ho sentito gli uffici anche a seguito di segnalazione del Consigliere Bordoni, che ora non è presente in aula, e abbiamo appreso che in realtà in quell'area dove è prevista questo plesso scolastico non ci sono lavori in corso, perché dopo l'assegnazione dell'affidamento dei lavori ad una ditta i lavori stessi si sono fermati per problemi di una condotta fognaria. Poi però si parla appunto, pensate, la determina dirigenziale che ha dato via al tutto è del 2007, quindi chiaramente facendo poi un rapido calcolo forse i lavori saranno stati affidati nel 2008 e comunque sono fermi. L'area ha solo una presenza di scavi, in più si è anche saputo che la ditta ha fatto un ricorso contro il Comune di Roma e addirittura bisogna procedere ad una variante, bisogna quindi prevedere anche un diverso piano economico. Tutto questo lo dico perché è chiaro che non si può votare per quanto ci riguarda a cuor leggero un ordine del giorno se prima non si viene a conoscenza esatta delle cose che stanno accadendo su quel quadrante e per quanto riguarda questa scuola di Castel di Leva. Tant'è vero che io ho pensato, ne ho parlato anche in Commissione Bilancio questa mattina, dove abbiamo parlato di questa realizzazione di questa scuola, di fare una commissione di modo tale da invitare gli attori che riguarda questa vicenda, quindi il Simu con i tecnici, è chiaro che voteremo contro a quest'ordine del giorno ma non perché siamo contrari alla realizzazione di questa scuola ma perché vogliamo vederci chiaro e approfondire prima di portare atti concreti. Grazie. A lei, Consigliera.